Buongiorno a tutti, oggi vi parlo di un oggetto che volevo comprare da un sacco di tempo, alla fine mi ha convinto un video di Matteo Coletta, anzi Overlens il nome del canale, vi lascio in descrizione il suo video che alla fine mi ha fatto decidere per fare questa spesa. Vi parlo della Behringer X-Touch Mini, ma a scopo fotografico. Questa qui è in realtà un controller MIDI, quindi in teoria servirebbe per regolare i volumi o altre cose relative all'audio. Il MIDI è un'interfaccia pensata per suonare, per interagire con il computer per quanto riguarda l'audio in particolare. Però questo non vuol dire che non si possa usare questa tastiera, chiamiamola così, per altri scopi. Infatti il MIDI è un modo per comunicare tra questo tipo di strumenti e il computer. Dopodiché è possibile, scrivendo dei software, rimappare questi controlli praticamente su ciò che vogliamo. E questo è quello che ha fatto, ad esempio, chi ha scritto uno dei traduttori proprio per fare questa cosa. Quindi questo oggetto qui, come tantissimi in realtà altri controller MIDI, e ce ne sono davvero tanti, addirittura alcuni con gli slider motorizzati, ora capiamo perché può essere necessario avere degli slider motorizzati, Tutte queste interfacce, se supportano il protocollo MIDI standard tramite un USB, questo ha una vecchissima micro USB, ve la ricordate quella un po' più cicciotta, ma c'è il cavo incluso con l'USB standard dall'altra parte, comunque si attaccano al computer attraverso una USB normale, dopodiché vengono visti come un'interfaccia MIDI, e attraverso un software che è in grado di capire i segnali che vengono mandati da questa, poi questo software può, diciamo, rimapparli, ricollegarli, ritradurli in istruzioni per altri software. E' appunto stato scritto un software assolutamente libero, open source addirittura, che traduce appunto i MIDI in operazioni in Lightroom, è un plugin di Lightroom, praticamente con questa tastiera potete controllare in Lightroom veramente ciò che volete. Il motivo per cui ho scelto questa, e riprendo un po' quello che ha detto Matteo nel suo video, c'è uno slider, che però devo dire la verità non uso molto, poi ci sono ben otto rotelline, queste rotelline si possono girare, in realtà hanno dei piccoli click, senza fine, e sono anche cliccabili. Poi sotto ci sono ben 16 tasti, che possiamo associare a ciò che vogliamo, in più poi premendo questi qui, layer A e layer B, tutte queste manopole hanno nuove funzioni, quindi in realtà switchando tra i due layer, i due livelli diciamo di comandi, abbiamo praticamente in tutto 16 rotelle e 32 bottoni. Perché è utile avere le rotelle senza fine, anziché con dei fine corsa, come ad esempio sono gli slider, diciamo che associate il contrasto a questo slider. Su una foto e vogliamo mettere il contrasto al massimo, quindi lo mettiamo così. Andiamo alla foto successiva, e cosa succede allo slider? Che è messo su, quindi non può andare oltre, se vogliamo aumentare il contrasto, o non abbiamo più corsa, oppure se lo mappiamo su la posizione assoluta di questo slider, volendo muoverlo leggermente in basso, appena lo tocchiamo, lui va a impostare il contrasto al massimo, da qua su, e poi dobbiamo farlo scendere. Esistono quindi delle tastiere, dei controller con gli slider motorizzati, che sono anche supportati da MIDI 2LR, MIDI 2 Lightroom, il plugin che ho usato io, per cui addirittura potreste effettivamente, questo non è motorizzato, ma motorizzato vuol dire che voi, quando cambiate foto, se avete tanti slider, appena cambiate foto, gli slider si fanno automaticamente, magicamente, a posizionare nella posizione giusta, a seconda delle impostazioni della foto, quindi se la foto non la vede ancora editata, di slider si metteranno tutti sulla metà, quindi a quel punto voi magari cambiate, abbassate, non so appunto il contrasto, ma quando cambiate foto, automaticamente questo si va a mettere da solo lì. Ovviamente i controller con gli slider motorizzati, hanno un costo molto più alto di questo, che effettivamente si trova intorno ai 50 euro, vi lascio il link ovviamente in descrizione, ma avendo delle rotelle senza fine, questo problema non ce l'abbiamo, perché la rotella parte, diciamo dal valore che è già impostato, e poi la possiamo girare quanto vogliamo, ma comunque c'è un feedback, noi sappiamo, possiamo sapere anche guardando la tastiera, a che livello siamo del cursore su Lightroom, perché qui intorno ci sono dei led, che si colorano a seconda di quant'è l'impostazione in Lightroom, quindi questo plugin legge l'informazione dalla foto, e la trasferisce alla tastiera, qui al controller, e ci dà quindi un feedback anche visivo. Stessa cosa può farlo sui tasti, se li associamo a degli switch on off. Possiamo associare questi tasti veramente a qualsiasi cosa vogliamo, non so, a dei preset, a delle attivazioni di qualcosa, forse i preset sono la cosa un po' più comoda per questi qui, ad esempio il tasto che è dentro la rotella, io lo associo al reset di quella cosa, quindi non so, ad esempio questo è, diciamo, l'esposizione, cambio l'esposizione, se poi la voglio far tornare a zero, indipendentemente da quanto l'ho regolata, premo e quella torna a zero, questa cosa l'ho trovata molto comoda. In realtà addirittura in MIDI 2LR possiamo creare tanti profili, un profilo in cui questa è l'esposizione, un profilo in cui questo è, non lo so, la distorsione prospettica, salvare n profili, e poi ad esempio dirgli che quando premiamo uno di questi tasti, lui deve cambiare profilo, e quindi andare su un profilo diverso, o addirittura gli possiamo dire di cambiare profilo quando si passa ad esempio dal modulo di sviluppo al modulo di galleria, rimappare automaticamente questi tasti in base alla situazione in cui siamo dentro Lightroom. Quindi è davvero uno strumento potentissimo, vi dico da subito ovviamente che la parte iniziale di configurazione insomma è abbastanza impegnativa, però secondo me, considerando il prezzo di questo oggetto, metterci un po' di fatica, tra virgolette, iniziale per configurare il plugin in modo da mappare questi qui su quello che volete, vale la pena, anche perché la configurazione è davvero semplicissima. Quando all'inizio apriamo, installiamo un plugin, l'installazione è banalissima, almeno su Mac io l'ho provato, è davvero semplicissimo, all'inizio quando aprite Lightroom si apre automaticamente anche la finestra del plugin. Appena voi premete un tasto qualsiasi, viene evidenziata la linea relativa al tasto e quindi potete andare lì a selezionare a quale funzione associare il tasto. Quindi è semplicissimo, non dovete cercare questi tasti sul plugin, basta che girate una rotella, lui vi fa vedere, stai girando questa rotella, o stai premendo questo tasto, o stai premendo questa rotella, quindi a quel punto potete selezionare la funzione da associare a quel tasto, a quel controllo fisico. Intanto grazie anche a Matteo di Overlens per avermi consigliato questa cosa, diciamo che, ripeto, io già l'avevo puntata da un po', quindi quando ho visto il suo video che faceva tutte queste cose, in realtà lui ha detto che si poteva usare anche in Lightroom, ma in particolare lui la usava per OBS, per mappare, diciamo, tutti questi controlli sulle funzionalità di OBS, per cambiare le scene, OBS è software che serve per fare delle live, e anche fare la regia delle live. Quindi questa tastiera in realtà è utilizzabile veramente per tante cose, nasce ovviamente per l'audio, tant'è che questo slider ha segnati sopra, diciamo, dei valori che ricordano i decibel per l'audio, però può essere utilizzata per tante cose. Allora, io ho tentato ad esempio di usarla per DaVinci Resolve, software che uso per fare montaggio audio-video, purtroppo non si può associare alle funzionalità di editing in DaVinci, ma è associata da quello che ho capito, devo dire che non l'ho provata, però automaticamente lui la riconosce come device per la parte di audio, appunto di Fairlight, che è la parte di mixing audio di DaVinci Resolve, quindi quella cosa già funziona. ho cercato un po' per Capture One e ho visto che Capture One non supporta in nessun modo questo tipo di cose. Lightroom ha il vantaggio di supportare i plug-in, di avere anche una buona documentazione su come si scrivono i plug-in e quindi effettivamente chiunque può scrivere un plug-in per supportare un oggetto di questo tipo o per tante altre cose, lo sappiamo, Lightroom ha vari plug-in. Capture One non supporta questa cosa e quindi non c'è modo, diciamo, di collegare un'interfaccia MIDI quindi a Capture One, a meno che non decidano Capture One di supportare nativamente questa cosa. Purtroppo non è non è così semplice. Sapete che esiste anche una versione fatta apposta per l'editing fotografico che è la Loop Deck, molto molto bella, ma costa 5 volte questa mi pare, o 4 o 5 volte, almeno questa qua. arriva già con diciamo le rotelline, le cose con scritto, luminosità, contrasto, insomma, è già pronta o ha gli slider per i colori, insomma, ha già pronte le funzionalità e se, diciamo, lo fate forse a livello professionale, se dovete veramente modificare tante foto e la usate tanto tanto, è possibile che la Loop Deck effettivamente abbia vari vantaggi rispetto a questa, ma più che altro perché arriva già preconfezionata e ha già le scrittine sopra. Su questa dovete fare voi un po' di personalizzazione che a me in realtà non dispiace, essendo un po' smanettone, in realtà mi piace l'idea di poterla customizzare come voglio. Lo sto ancora facendo, non ho ancora finito, però ho almeno mappato la parte basic, diciamo, di Lightroom, di esposizione, contrasto, luci, ombre e qualche tasto alla parte, ad esempio, di correzione automatica, prospettica, cose di questo tipo e devo dire che una volta che ci prendete la mano è davvero comodo. Inoltre, oltre a velocizzare, vi dà un po' un feedback diverso, guardare l'immagine e andare a cambiare, girare la rotella senza dover guardare lo slider da una parte di Lightroom. Mi piace molto di più, si vede molto di più il cambiamento a seconda, mentre muovete i controlli in Lightroom, altrimenti si fanno con il mouse e a volte non sono così diciamo tattili, la fotografia anche è una cosa che nelle macchine fotografiche cerchiamo un po' l'ergonomia tattile e secondo me questa cosa ci avvicina un po' a quel tipo di sensazione che abbiamo durante lo scatto con la macchina fotografica. Ditemi che cosa ne pensate, mi raccomando se vi è piaciuto il video mettete un like, se non siete iscritti iscrivetevi, cliccate la campanella per rimanere aggiornati sui nuovi video, come sempre buona fotografia e alla prossima ciao ciao